Eccoci di nuovo qui, stiamo arrivando a Tariffa. Il tempo non è dei migliori. C'è un vento incredibile! Vi sentite? Siamo a 4 km dalla luna! Siamo arrivati nel punto più sud della Spagna e dell'Europa. Qui eravamo nella lingua di terra che separa il mare Mediterraneo con l'Oceano Atlantico. La strada di terra è un'esplosione. 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 Grazie a tutti. 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 Eccoci qua, siamo parcheggiati in retro perché noi abbiamo le tre finestre dietro. Grazie a tutti. 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 Come si chiama il nome? Una di dunas del Val de Queroz. Val de Queroz. Guardate qua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.